Non convegni, tavole rotonde, relazioni e presentazioni di libri. Non c'erano illustri relatori oggi alle liceo delle scienze umane. Le studentesse hanno scelto di dire la loro nella giornata contro la violenza sulle donne usando il linguaggio dei giovani. Così nell'aula magna della scuola hanno portato in scena uno spettacolo interamente ideato e realizzato da loro esprimendo così la loro sensibilizzazione al fenomeno della violenza contro le donne. Canti, balli, monologhi e recitazioni hanno dato voce agli studenti contrari ad ogni violenza. È giusto che anche al liceo delle scienze umane, al liceo classico, al liceo delle scienze umane dove c'è una prevalenza femminile, gli studenti acquisiscano consapevolezza dell'importanza delle relazioni umane di modo che ciascuno sappia difendersi, ciascuno acquisisca quelle modalità comportamentali che poi non favoriscano il tentativo di violenza, la prevaricazione, l'abuso, le forzature. Noi oggi contiamo molto su questo spettacolo prodotto direttamente dalle ragazze del liceo delle scienze umane perché diventa un momento importante di presa di consapevolezza. Le ragazze utilizzando diversi linguaggi espressivi, video, musica, canto, recitazione, hanno appunto illustrato la violenza contro le donne e di manifestare il proprio dissenso. E sebbene oggi questo fenomeno sia in forte crescita, bisogna ancora contrastarlo e arginarlo.